La prima serie 100 rana maschili Il record della manifestazione Andrea Brazzoli 1-0-1 a E64 Con Andrea Tognato in precedenza in basca Nei 100 stile libro Ritorna in acqua qui alla Piscina delle Rose Nella sua specialità Quella dei 100 rana La gara che l'ha lavorato più forte Campione italiano assoluto E soprattutto per lui Ria 2.016 Giochi olimpici 28-11 Il suo passaggio è seguito da Riccardo Cervi 29-15 e poi Mucato 29-53 Proprio fasi iniziali di questa stagione Nel mese di ottobre Già a caccia di un'importante prestazione Andrea Tognato Qui nella vasca di Rose Ancora davanti Atleta del Veneto Con Cervi Che prova di salire nel finale Riccardo Cervi attacca Ma resiste e Tognato 60-65 Brinato della manifestazione Andrea Tognato Vediamoci alla mia seconda 1-0-1-20 Poi l'alardo locato Grazie a tutti